non ti comprare mai una multipla metano la cosiddetta natural power che di power non ha nulla e te lo dimostra senti come fa come un trattore poi è anche brutta sembra un fusto con questo vetro da autobus non si sa qual è il davanti e quali il dietro se la comprate buttate solo i vostri soldi guardate che geni che sono in fiat li fanno di plastica e guarda il risultato anche di qua e ve lo dimostro anche su questa materiale scadente quindi non comprate verrà mai 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 una multipla